Non sapete che sono il cugino di Rathorix? Lasciatemi spiegare tutta la storia Inizia tutto nel 2017 quando sono andato a Romix Per chi non lo sapesse una fiera E cercavo Rathorix, ma lui non c'era Ma al posto di Rathorix incontro Lore insist Che al tempo aveva tipo 8000 iscritti E gli dico Ehi Lore, sai dove Rathorix? Lui mi dice il padiglione dov'era? E lo incontro! E il Romix finisce E che c'entra tutta questa roba col fatto che sei il paese cugino di Rathorix? Io nel 2019 su Instagram postavo meme su di lui E lui mi dice Lo poi diventa mio privato, personale, col faccino Ma Rathorix non mi aveva un followato E un giorno un bambino per strada mi ferma e mi dice Ehi, ma tu sei quello che Rathorix segue su Instagram? Sei per caso il cugino di Rathorix? E io, sì E da quando ho raccontato quella storia sul mio canale YouTube È diventato un meme del canale qualunque cosa io faccia E io posto un video su qualcosa di brutto, di tragico E i commenti Ehi, ma tu sei il cugino di Rathorix?